Il Faustina Sporting Club di Lodi ha ospitato i campionati italiani di nuoto paralimpico. È stata una competizione molto interessante, con un record europeo 25 primati assoluti e 24 di categoria, tempo importante in proiezione dei mondiali in Messico che scatteranno a fine settembre. La competizione irritata è il vero obiettivo anche di Vincenzo Boni, atleta del Caravaggio Sporting Village delle Fiamme Oro, che anche a Lodi ha fatto incetta di medaglie, ma senza brillare a livello cronometrico. La forma migliore è ancora lontana, quella arriverà nelle prossime settimane, quando la competizione irritata sarà sempre più vicina. Boni si conferma comunque il miglior S3 d'Italia. All'Odisi è divertito in acqua, vincendo i 50 stile libero il venerdì nella sua categoria e due titoli open tra sabato e domenica, nei 100 stile libero e nei 50 torso. Adesso per Vincenzo Boni inizia la terza tappa di avvicinamento al momento più importante della stagione. continuerà all'inalza il Caravaggio Sporting Village di Napoli con il suo tecnico Alessio Sigillo per arrivare al 100% in Messico e andare a caccia di un'altra medaglia di spessore, come è accaduto già alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.